A quasi un anno dal meeting di ciclismo riservato ai più piccoli, Pineto si prepara ad abbracciare il raduno della Nazionale Paralimpica Azzurra. Lo farà a fine mese, dal 22 al 27 febbraio. Dunque, la città adriatica ancora una volta è in prima fila quando si parla di due ruote. Stavolta accoglierà atleti che nonostante la disabilità ce l'hanno fatta. Stamattina la presentazione a Villa Filiani, presenti il sindaco Robert Verrocchio, il CT pluridecorato Mario Valentini, il presidente Mauro Marrone e il team Go Fast di Andrea Di Giuseppe con uno dei suoi atleti di punta, Pierpaolo Addesi. Durante la sei giorni gli Azzurri racconteranno le loro storie alle classi medie del comprensorio del Cerrano, ma soprattutto scalderanno i motori per l'evento di riferimento, le Paralimpiadi di Rio 2016. In vista proprio di queste Olimpiadi, questa è una zona buona, perché 15 giorni dopo abbiamo i Campiati del Mondo in pista a Montichiari, ma questo è un buon trampolino di lancio per poter lavorare, anche perché qui in zona c'è un rettilino, una strada bellissima per lavorare, proprio per quelle specialità della pista. Mineto adesso ha conosciuto la potenzialità del ciclismo, la potenzialità di promozione turistica del ciclismo e ha abbracciato pienamente il nostro sport, quindi io sono contento anche di questo, perché abbiamo dimostrato che il ciclismo, oltre ad essere sport, è anche un veicolo che muove l'economia e il turismo. Quindi sicuramente un segno positivo. Poi ormai con la Nazionale Paralimpica l'Abruzzo ha un rapporto di amore, visto che sono diversi anni che vengono da noi e quest'anno avremo anche questo raduno, quindi sarà un ulteriore momento di vicinanza con questa nazionale, che è una nazionale che porta tantissimi risultati e devo anche aggiungere al contributo di parecchi ragazzi abruzzesi. Sto entrando nella nostra città, una città che sta avvicinando molto a questa disciplina, al mondo della bici in generale. È un'occasione che ci inorgoglisce, perché comunque aver scelto Pineto per il ritiro è qualcosa che fa onore a tutta la nostra comunità, ma soprattutto per il messaggio che c'è dietro, non solo dello sport, ma lo sport come momento inclusivo, a prescindere se si è normodotati, se si è disabili.